I primi vantaggi saranno tornati in la race in questa prima sono partiti in sette sette saranno anche nella seconda race Vida, Floriana Floriana davanti a Otinic, Safraeck, Pitulon Van de Manecker, Guonen e Mercier i passaggi ora al termine del primo giro Floriana Junior Bacchi impegnati sul circuito di Maggiora per questa prova della campionata europea Pitulon è passato in terza posizione Floriana Valdinic, Pitulon e poi Safraeck Mentre invece non riesce a ripartire con il 233 volandese ooooh in fondo sta cercando di ripartire ma nulla da fare per lui il commissario lo invita la scelta sta andando anche a rilettro vediamo il passaggio alla termine della terza giro ooooh in fondo la scelta la scelta è stata andata è stata andata la scelta la scelta e poi la scelta è stata andata e poi la scelta è stata andata La battaglia per la seconda posizione mentre vi ha incontrastato la monstra Florian. Oh, è andato sbotto. Per attenzione ci ferma, gira nel tornante, riprende l'estero. Questa è andata, quasi ormai doppiato, invece va l'America, passa adesso. Ha dei problemi, Laura D'Arsien, ragazza francese, viene superata. La battaglia è ragionata, vincente, chiude il rottiricchio, chiude il rottiricchio. Noi pronti alla partenza, semaforo verde, si parte. Partiti anche questi union banchi. La battaglia è seguriare la battaglia. La battaglia è seguriare l'arretto dei union banchi impegnati. Guida le fine invece Philip D'Art. Seconda posizione per Lanza di Glesis, terza posizione per Venanzi, quarta per Elisca Pituova, più attardato come dicevamo dove inseguire Van Asten, primo passaggio per Filippo Lanza. Filippo Lanza, qui vicino a noi, prende margine Filippo Lanza con il suo Alpharese Niaman, e troppa posizione per l'Alpharese Niaman e sei di Cristian Zureccis, queste sfide invece per Venanzi, Suzuki per Elisca Pituova, l'Alphabaki di Van Asten. Filippo Lanza, Filippo Lanza, Quarta. La seconda, Grencis, Filippo Lanza, passa davanti, Elisca Pituova ha guadagnato la terza posizione. Filippo Lanza, Filippo Lanza, si si parte di finale in ricorso ora del quarto giro questa seconda race ultima per l'Union Baki attenzione perché Venezia si viene attaccato anche da Palazzo distanto a chiudere la sua torta per l'ultimo giro in ricorso ora del quarto giro e per la Grecia duello tra i due mentre invece sono invariate l'altra posizione guarda attenzione perde il terreno la prima volta che adesso deve difendersi dall'attacco di Pio Manaste cerchiamoli nell'ultima coppa mentre va a vincere Pio Manaste seconda posizione per Grecis e terza posizione Vidi Scalpi in Pio Man pronti alla partenza assieme a Pio Verde partiti anche il Junior Baki ci vediamo di Pio Manaste di Pio Manaste di Pio Manaste terza posizione di Pio manaste di Pio Manaste e di Pio Manaste non usa Grazie a tutti. 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 vediamo... da grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.